Sabato 1 giugno 2024 a Fuorio, presso la palestra dell'Associazione Sportiva Direttantistica Bruce Lee dell'Isola d'Istia, si sono tenuti gli esami per il passaggio, grati e cinture degli allievi allenati dal maestro Raffaele Patalano, esaminatore d'eccellenza della seduta di esami, è stato il presidente regionale della FederCompat, il maestro Gianni Di Bernardo, più volte campione d'Italia Semicontact e Light Contact, con la nazionale italiana campione europea a Venezia nel 1985 e vicecampione del mondo nello stesso anno in Ungheria, arbitro internazionale, nel 2018 è stato insignito dal coni della prestigiosa stella di bronzo al merito sportivo. Tutti gli allievi, davanti a una platea gremita di genitori, hanno mostrato le abilità marziali acquisite e sono stati per questo promossi, a seconda del percorso effettuato, con le cinture nera, gialla, verde e arancio. Per atleti, genitori e nonni presenti è stato bellissimo e toccante il momento della consegna dei diplomi e delle relative cinture. Per il maestro Gianni Di Bernardo, invece, è stato un piacere tenere gli esami all'interno della palestra dedicata a Brusoli, di cui, tra l'altro, è presente, unica in Italia, la statua a grandezza naturale.